Si chiama Erin O'Connor, è una donna di 40 anni di età ed è una modella che ha scelto di sfilare per la famosa Fashion Week di Couture in Parigi, capitale della Francia, nonostante sia in gravidanza. Su Instagram ha pubblicato diverse foto che la ritraggono col vestito indossato mentre aspetta il secondo figlio del compagno Steve Gibson. Avrebbe confessato che sarebbe stato l'ultimo lavoro prima di partorire come l'indipendenza in forma. Si trova all'ultimo mese di gravidanza, un'ultima abitazione a Paesone prima dell'arrivo del piccolo bimbo, a coprire il grande pancione, un vestito di colore rosa e ai piedi delle comode scarpe da ginnastica usual, casuali diciamo così. Il vestito era piuttosto ampio che è stata necessaria una sua precisazione per capirlo meglio. La modella ha scelto di fare lo stesso, ossia di disvelare le sue forme rotonde in maniera solo verbale, quindi attraverso l'ausilio della sua voce, cercando di occultare, ripeto, grazie a questo piacevole vestito di colore rosso, il suo grande pancione. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua, iscrivetevi e commentate al prossimo video da narratore italiano.